Buongiorno e benvenuti al telegiornale della Scuola di Giornalismo dell'Università di Sassari. Dal mondo del lavoro continuano ad arrivare notizie preoccupanti ed inquietanti. La settimana registra il durissimo colpo della crisi che ha messo in ginocchio meridiana. La compagnia aerea della Gacanna ha avviato 910 licenziamenti, praticamente la metà dei dipendenti, e a terra rimarranno 9 aerei su 17. I sindacati temono che la decisione possa preludere a un progressivo abbandono dell'isola. Per Olbia in particolare avrà un impatto devastante. È come se la Fiat a Torino mandasse a casa la metà dei propri dipendenti. A Porto Torres intanto è sempre alta la tensione per la Vinils. Tre dipendenti sono saliti su un traliccio altissimo per protesta. Sono scesi dopo le rassicurazioni del ministro dello sviluppo economico Paolo Romani. Il governo interverrà per accelerare la cessione dell'azienda dell'Eni al fondo di investimenti svizzero Gita. Per descrivere le dimensioni del dramma dei senza lavoro nel Sassarese è sufficiente dare una cifra. 40.000 sono gli iscritti nelle liste di collocamento. Siamo andati a vedere come si combatte in prima linea nella guerra contro la disoccupazione. Fabbriche che chiudono i battenti e lasciano a casa centinaia di lavoratori. Attività commerciali che arrancano o tentano di restare a galla. È questo lo specchio della crisi che si è abbattuta sull'isola con un bilancio più pesante rispetto al resto d'Italia. Le più colpite sono le nuove generazioni. In Sardegna un giovane su due è senza lavoro. La ricerca di un'occupazione passa anche attraverso le nuove tecnologie. Basta entrare su internet per trovare decine di siti con offerte di impiego. Ma gli unici possibili prevedono il part time o un contratto a progetto. Un sogno il lavoro a tempo indeterminato. Perché non basta avere una laurea in tasca? Purtroppo il mondo del lavoro è un po' un cane che si morde la coda perché tutti richiedono l'esperienza ma purtroppo se non hai esperienza perché stavi studiando come messi un neolaureato è difficile che tu possa iniziare a lavorare. In questo scenario di crisi lavorativa operano attivamente i CSL, Centri Servizi per il Lavoro. Dal 2005 hanno sostituito i vecchi uffici di collocamento. Qui si recano giovani alla ricerca di un'occupazione ma anche tanti adulti che hanno perso il lavoro. Gli iscritti al Centro per il Lavoro di Sassari sono 40.000. Una cifra che comprende sia i disoccupati sia i lavoratori in mobilità. In questo periodo lo sforzo maggiore è concentrato nella creazione di corsi per il reinserimento dei lavoratori casi integrati e in lista di mobilità. Negli ultimi anni, a fianco ai tradizionali uffici di collocamento, si sono moltiplicate le agenzie interinali per il lavoro, gestite da privati. A Sassari ce ne sono sette. Per iscriversi basta portare il curriculum e sperare in una chiamata che non sempre arriva. Se un'azienda cerca un buon candidato e soprattutto un profilo specifico, che probabilmente non è facilmente reperibile nel mercato, si rivolgono alle agenzie interinali proprio in questo senso. Certo è che ora come ora cerchiamo sicuramente candidati che abbiano dei profili molto più specifici rispetto a candidati con un profilo generico di impiegatizio o d'altro. Operai specializzati, macellai, pescivendoli, camerieri e lavapiatti sono le figure più richieste dalle agenzie e dal settore turistico. Ben poco per i laureati. Io ho portato il mio curriculum a quasi tutte le agenzie di Sassari, tranne un paio, però le offerte che mi venivano fatte non erano attinenti a quello per cui avevo studiato e insomma non erano neanche convenienti a me da un punto di vista economico. All'ansia per la ricerca del lavoro si aggiunge l'amarezza per aver investito inutilmente anni di vita nello studio. Anche l'amministrazione comunale è scesa in campo per favorire l'avvio di piccole iniziative private. Lo sforzo è concentrato nel centro storico e ai finanziamenti potranno accedere anche i cittadini extracomunitari. Lo sviluppo della grande distribuzione nella zona industriale di Predaniedda ha innescato da tempo un processo di desertificazione del centro storico di Sassari. La crisi ha dato poi il colpo di grazia e non si contano i negozi chiusi. Anche nel centralissimo corso Vittorio Emanuele il commercio sembra in agonia. Per arginare questa tendenza il Comune ha rilanciato il piano dei minimis. Si tratta di una iniziativa che ha la terza edizione che riguarda la possibilità di insediare nuove imprese nell'ambito del centro storico. Abbiamo preferito concentrare le risorse che avevamo residue dalle precedenti iniziative proprio su questo quartiere perché ne contiamo molto nel suo sviluppo. Quindi giovani in particolare ma anche adulti magari esclusi dagli attuali processi produttivi per via della crisi possono accedere a questo finanziamento e questo ci consente di insediare rispetto alle risorse che abbiamo messo a disposizione dalle 20 alle 30 imprese a seconda naturalmente dei contributi che verranno chiesti. Sono disponibili 728 mila euro. Ogni iniziativa potrà contare su un contributo massimo di 50 mila euro a fondo perduto. Gli interessanti dovranno investire di tasca propria almeno il 10% delle risorse necessarie ad avviare il progetto. Per presentare le domande c'è tempo fino al 18 marzo 2011. Potranno accedere a questi fondi anche i cittadini extracomunitari. Delle 97 imprese attivate grazie ai fondi De Minimis molte hanno chiuso i battenti. Le più stabili si sono rivelate quelle dei cittadini stranieri. De Minimis mi hanno dato una mano, un po' di aiuto però io le ho aperte anche come la sforza mia da sola. E comunque sia mi hanno dato una mano perché qualcosa ho ricevuto. E poi qua un posto che non c'era molto di questo cibo qua. Voleva che la gente è conoscere quello che mangia noi, quello che è la nostra cultura. Questa della cucina greca è sempre stato un po' il mio pallino perché essendo per metà greca e per metà sassarese, ma alla fine dopo tanti anni di precariato, di contratti a tempo, contratti a termine, ore di insegnamento qua e là, alla fine ho deciso di trasformare la passione per la cucina e le origini in un lavoro vero e proprio ed è andata così. C'è anche chi, come Manuela Pala, è però critica sui De Minimis e ha preferito fare tutto da sola, aprendo lo scorso dicembre in via Turritana un delizioso negozietto di abbigliamento usato. Credo che una cosa che arriva troppo tardi è che sia molto difficile come qualsiasi agevolazione rientrare all'interno di tutto ciò. Io tratto usato, abiti usati e accessori usati, quindi è l'inizio di un progetto più ampio che spero di riuscire a attuare nel tempo, almeno un anno o due anni al massimo, di chiudere il cerchio. Io sono fiduciosa perché comunque è aperto un'attività che a Sasserì non c'è, mancava e se ne sentiva la mancanza. È un'attività colorata, questo mi piace dirlo perché nel grigiore del centro storico ci voleva un'attività di questo tipo. E sera, nonostante il periodo nero, c'è qualcuno come Manuela che all'orizzonte cerca di vedere un barlume, forse piccolo, di speranza. Anche il settore agricolo, come si sa, è travagliato da una crisi pesantissima. Il Comune ha predisposto un piano con la collaborazione delle organizzazioni del settore e degli istituti bancari. L'intesa è stata firmata a Palazzo Ducale e sarà immediatamente operativa. Approfondiremo il tema nella prossima edizione. Quando il degrado si potrae nel tempo, entra a far parte stabilmente del paesaggio e diventa invisibile. È il caso di un'area a ridosso della centralissima via Roma di Sassari. Siringa e cartacee in uno spazio nel centro di Sassari, un'area dimenticata ormai da anni. Il Comune, nel vecchio piano regolatore, voleva crearvi un giardino, ma sull'area non sono mai stati piantati dei fiori. Siamo tra via Roma e via Zanfarino, in un cortile interno, uno spazio tra vecchi palazzi in evidente stato di abbandono. A frequentarlo non sono certo le mamme con i loro bambini. Tra erbace e tubi arrugginiti anche un piccolo fossato e una rampa inutilizzata. Il Comune non ha mai fatto i lavori promessi. Già nel vecchio piano, quella zona lì, è una S, quindi un giardino. Nella scheda norma noi abbiamo previsto che rimanga a giardino quella parte già prevista dal vecchio piano, quindi un'area di trascinamento che rimane così com'è. Un'altra parte dell'area invece viene destinata ad un parcheggio sotterraneo che comprende tre piani. Per un totale di 150 posti auto. E sopra la piazza, la parte che riguarda la piazza sarà anche quella una S di vita giardino. Quindi all'interno della scheda norma è previsto un grande giardino che finalmente qualificherà quell'area. I vecchi edifici che si affacciano su via Tempio e via Torino sono protetti dalla sovraintendenza e vanno salvaguardati. Per vedere panchine e aiuole, i cittadini sassaresi dovranno attendere l'estate, quando il nuovo PUC riceverà il via libera dalla regione. Nel piano urbanistico sono comprese anche altre aree di proprietà comunali cadute nell'oblio. La vita culturale a Sassari è sempre vivace. Nel Museo archeologico Sanna è stata inaugurata la mostra Memorie dal sottosuolo. Offre un'occasione straordinaria per vedere preziosi reperti venuti alla luce negli scavi degli ultimi decenni. Nella sala della Camera di Commercio Beppe Severnini ha presentato il suo ultimo libro, La pancia degli italiani, Berlusconi spiegato ai posteri. La serata è stata coordinata dal giornalista della Nuova Sardegna, Francesco Pinna. Ad Alghero la Facoltà di Architettura cresce con sicurezza e continua a raggiungere obiettivi prestigiosi. La Facoltà di Architettura di Alghero ospiterà nel 2012 la più importante conferenza internazionale sulla percezione visiva. Un appuntamento che tutti gli anni mette a confronto gli scienziati delle università di tutto il mondo. Un'occasione prestigiosa per una facoltà che vuole diventare un centro di eccellenza del design e dell'urbanistica. L'obiettivo è attivare una scuola internazionale di architettura in grado di competere con le grandi in Europa e nel mondo. Dal prossimo anno accademico noi inizieremo nella nuova sede sui bastioni di Alghero, questa sede storica, importante. Tra l'altro abbiamo accompagnato dei nostri partner, nostri colleghi a fedele e naturalmente sono rimasti molto impressionati da questa struttura storica che ha, io credo proprio come deposito di memoria, un grande potenziale formativo. Dal 1 al 5 settembre più di mille scienziati si ritroveranno nell'ex convento di Santa Chiara che a breve diventerà la nuova sede di architettura. I lavori di restauro sono in via di conclusione e così l'antico collegio diventerà il cuore pulsante di un Ateneo sempre più internazionale. Con questo servizio abbiamo concluso. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima edizione. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima.